Consideriamo il seguente problema, risolvere un'equazione di primo grado intera. L'equazione è questa, ax più b uguale a 0. Dobbiamo trovare il valore di x e quindi dividiamo tutto per a ottenendo la radice x uguale a meno b fratto a. Ci sono tre casi. Se a e b sono entrambi uguali a 0, x sarà uguale a 0 su 0 e in questo caso ci sono infinite soluzioni e l'equazione si dice indeterminata. Un altro caso è quello in cui abbiamo a uguale a 0, quindi il denominatore uguale a 0, mentre b è diverso da 0. In questo caso non ci sono soluzioni e l'equazione è impossibile. L'ultimo caso è quello in cui l'equazione è possibile e ha una sola soluzione. A deve essere però diverso da 0, b può assumere qualunque valore. Per prima cosa definiamo i dati, la tabella dei dati, dove ricordo abbiamo una colonna id che contiene l'identificatore delle variabili utilizzate, che sono in questo caso a, b e x, una descrizione facoltativa, la a è il coefficiente dell'incognita x, b è il termine noto, x è la radice. Poi questa colonna i o t specifica se la variabile è una variabile di input, di output oppure temporanea, quindi né di input né di output ma utilizzata per contenere dei risultati temporanei, parziali. E poi la colonna del tipo, in questo caso usiamo il tipo double perché abbiamo una divisione e vogliamo il quoziente esatto e non il quoziente intero. Utilizzando gli int invece otterremmo solo un quoziente intero. Passando al flowchart, la prima cosa da fare è acquisire in input i dati. Quindi chiediamo di inserire il coefficiente dell'incognita, poi lo andiamo a leggere e lo assegniamo alla variabile a, chiediamo di inserire il termine noto, lo leggiamo e lo assegniamo alla variabile b. Quindi, talvolta per abbreviare un pochino la scrittura del flowchart, io ometto questi due blocchi, output e output, e scrivo solo input. Ripeto che lo faccio solo per abbreviare la scrittura perché in realtà ogni volta che c'è l'acquisizione di input e deve esserci ovviamente anche una richiesta all'utente perché altrimenti non saprebbe cosa fare. Quindi, se vi capitasse di trovare dei diagrammi di flusso dove c'è input senza output, non significa che non c'è l'output, significa semplicemente che lo do per scontato. Quindi, la condizione è a uguale a 0 e b uguale a 0, se è vera, in output produciamo che l'equazione è indeterminata e le soluzioni sono infinite. Altrimenti andiamo a testare il secondo caso, cioè verifichiamo se a uguale a 0, b diverso da 0, in tal caso non ci sono soluzioni e l'equazione è impossibile. Quindi, se è falso, se questa condizione è falsa, verifichiamo appunto quest'altra condizione e se è verificata, allora l'output sarà impossibile, nessuna soluzione. Rimane l'ultimo caso quando a è diverso da 0 e in tal caso, in questa situazione, andiamo a calcolare x e poi la produciamo in output. Quindi, se a è uguale a 0 e il b diverso da 0 è falso, verifichiamo se a è diverso da 0, nel qual caso calcoliamo x. Quindi x uguale a meno b fratto a e poi lo produrremo in output. Ecco, x uguale a meno b fratto a appunto, e poi output di x altrimenti non si fa nulla e si chiude il blocco. falso, chiudiamo anche tutti gli altri blocchi, quindi questo, poi andiamo a vedere anche quello sopra, quindi chiudiamo questo blocco e abbiamo fatto, dobbiamo solo aggiungere il blocco di terminazione e questo è il flowchart nella sua interezza. osserviamo però una cosa allora, quando arriviamo a questo punto abbiamo già escluso tutte le varie possibili combinazioni a uguale a 0 e b uguale a 0 falso a uguale a 0 e b diverso da 0 falso quindi è senza dubbio a diverso da 0 per cui quando arriviamo qui non è necessario andare a chiedersi se A è diverso da 0 perché sicuramente lo è quindi possiamo eliminare una condizione questa è la seconda versione del flowchart dove è stata eliminata una condizione superflua però possiamo fare ancora un ulteriore aggiustamento non è necessario utilizzare la variabile X per contenere la radice a meno che questa poi non debba essere utilizzata in seguito non è questo il caso X non viene più utilizzata viene solo prodotta in output e allora possiamo eliminarla nel modo seguente in questa terza versione del diagramma di flusso abbiamo rimosso la segnazione alla variabile X della radice meno B fratto A e di conseguenza possiamo andare a rimuoverla anche dalla tabella dei dati